Si los! Si los! Siamo arrivati con le ragazze della scuola per dare un'occhiata a riguardare un po' questa fascia decorativa. Palladio comincia come voi, con un lungo tirocinio artigianale. Il suo lavoro cambia questi principali di axialità, balanza, harmonia, proporzione. A Palladio si chiede la perfezione, la misura diventa un progetto. Divide la villa su livelli, sono tutte su tre livelli, e crea anche una sedimentazione di funzioni. Queste forme continuano a formare i bambini pubblici dell'America, fino ad oggi, e quindi vediamo questa architettura di domenica, il classicismo di Palladio, che ha influenzato durante tutti i bambini pubblici in America. Andrea Palladio Andrea Palladio And that's why we're talking about Palladio. And that's why we're talking about Palladio and we're talking about Palladio And that's why we're talking about Palladio elen vaccin Grazie.